Disoccupati, destinatari del reddito di cittadinanza, è in possesso di 177.000 euro in contanti. E' quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Napoli, che ha denunciato per ricettazione due coniugi di Cercola. In particolare, i finanzieri del gruppo di Nola, nel corso degli ordinari servizi di controllo, hanno fermato e perquisito il veicolo sul quale viaggiavano i due, rinvenendo circa 2 kg sigarette di contrabbando, nonché una borsa contenente 47.000 euro in contanti. Le conseguenti perquisizioni domiciliari hanno permesso di scoprire nella loro abitazione ulteriori 130.000 euro nascosti nei cassetti e negli armadi, tre capi di abbigliamento. Si tratta di due pregiudicati, entrambi con precedenti per contrabbando, disoccupati. Dai successivi approfondimenti, condotti in stretta collaborazione con l'Inps, è emerso che gli stessi risultavano precettori del reddito di cittadinanza. Risultando formalmente nullatenenti, avevano già percepito 8.000 euro.